C'è tanto da parlare perché i mercati stanno reagendo ai dati che arrivano molto importanti nelle ultime giornate e i mercati, lo diciamo spesso, sono data dependente. In questa fase peraltro più che mai, dato che vanno contro mano, dato che la curva dei tassi è invertita e quindi è un po' come se le economie stiano viaggiando contro mano. Parleremo dei nuovi scenari sui mercati, multipli e tanti numeri. Prima ovviamente la comunicazione di rito, se non siete ancora iscritti, ai ai ai, fatelo e un clic sulla campanellina per avere gli aggiornamenti in tempo reale, un like, arriviamo almeno mille like al video per arrivare veloci a più persone in questo percorso di educazione finanziaria in basso. Ovviamente poi trovate i miei contenuti sul Sole24ore dove approfondisco queste e tante altre tematiche, questi video sono un po' un supporto alla lettura più consapevole degli articoli che in effetti poi trovate in descrizione. Partiamo con le trimestrali, stanno arrivando e quindi anzitutto il dato interessante è che le magnifiche 7 stanno un po' traballando perché Google non è andata bene, Tesla è andata peggio, Didi arriverà in ritardo, non lo sappiamo. sono andate molto bene quelle di Microsoft, quelle di Meta straordinaria, Amazon anche molto bene, Apple così così, soprattutto sulla Forward Guidance. Quindi le magnifiche 7, a parte Nvidia che non ha ancora presentato, stanno un po' dando segnali discordanti. non è distribuito il modo in cui questi trimestrali delle big stanno andando bene, ma nonostante tutto il mercato azionario sta facendo i suoi massimi storici, l'S&P 500 è praticamente quella soia dei 5.000 punti, psicologica, chiamiamola come vogliamo, è sui massimi storici, ogni giorno va lì a mettere un cippino oltre il territorio inesplorato e quindi siamo partiti bene anche con il mese, qui siamo su candele mensili, di febbraio dopo lo straordinario, gli straordinari ultimi tre mesi, bottom di periodo a ottobre e poi novembre, dicembre straordinari, gennaio bene e febbraio ancora ai massimi storici. Quanto potrà durare? Ovviamente non lo sappiamo, ma andremo ad osservare un po' la stagionalità, i multipli eccetera eccetera, in modo tale che ognuno poi possa farsi una propria idea di questo mercato che è trainato certamente dalle big, ma queste big a livello di trimestrali non tutte stanno convincendo. Allora andiamo a vedere un po' appunto le trimestrali, le trimestrali come stanno andando ce lo dà uno spaccato faxet, un aggiornamento in tempo reale, 46% hanno riportato, 72% hanno battuto gli earning per share, gli utili e 65% hanno battuto il revenue, cioè i fatturati. Per ora siamo a un più 1,6% rispetto al stesso trimestre del 2022 e andiamo quindi nel backstage dei mail file Excel che vado un po' a condividere con voi anche per farvi vedere come vado poi a ragionare, sostanzialmente prima avevamo, prima dell'aggiornamento di questa settimana avevamo un meno 1,4%, invece adesso dobbiamo sostituire e mettere 1,6, non è ancora completo, lo completeremo quando sarà, ma è importante perché diventa blu questa fascia, le fasce blu sono quelle in cui c'è un incremento rispetto al trimestre dell'anno precedente, le fasce arancioni sono state quelle di decremento e quindi abbiamo visto che qui c'è stata proprio una earning recession, c'è una recessione degli utili che sono calati fino a Q2 del 2023 e poi sono ripartiti, ma questo qui è un po' tutto da dimostrare perché fino alla settimana scorsa era in arancione, questa settimana grazie alle trimestrali importanti ad esempio di Meta come ricordavo prima e di Amazon ci sono stati appunto, si è tornati in blu, ma vedremo poi a completamento della presentazione dei conti, quindi un primo dato che possiamo ricavare è che Q4 è abbastanza combattuto tra trimestrali in crescita a livello di utili rispetto all'anno scorso o trimestrali un po' in decrescita, per ora siamo tornati in linea positiva. Interessante è andare a vedere però quanto vale l'S&P 500, ovviamente è un multiplo che lascia il tempo che trova ma comunque va analizzato e va valutato. Allora siamo praticamente intorno ai 5.000 punti, quindi ho inserito 5.000 punti, se vogliamo essere proprio spannometrici abbiamo un 4.958, allora andiamo a inserire 4.958, poi abbiamo gli utili, gli earning per shares per i prossimi quattro trimestri, quindi i prossimi quattro trimestri dell'anno che sono quelli che verranno riportati nel 2024, sono questi qui 49 dollari, 52, 57, 57, 98, li potete consultare, io li ho presi sul sito di Yahoo in questo caso, vedete 49, 52, 57, sono questi qui, sono gli utili attesi per i prossimi quattro trimestri dal mercato e se andiamo a analizzare appunto la somma totale abbiamo 217 dollari, se andiamo a dividere questi 217 dollari per il valore dell'indice, il valore dell'indice diviso 217 dollari abbiamo il multiplo effettivo rapporto prezzo utili, price earnings dell'S&P 500 forward, cioè attesi per i prossimi quattro trimestri, in questo caso siamo a 22,88, quindi Wall Street in questo momento prezza circa 23 volte gli utili attesi e che vedete già a colpo d'occhio è un multiplo più caro, sia della media 5 anni, della media 10 eccetera eccetera, è un multiplo più caro, non è un multiplo devastante, ci sono stati momenti in cui era 30 eccetera eccetera, ma è un multiplo caro, quindi questo ci serve se non altro per dire che mediamente in questo momento Wall Street non è a sconto e anzi è più cara rispetto ai livelli storici. Andiamo ad analizzare la stagionalità, cioè come si comporta proprio a livello mensile, è chiaro che è un discorso questo che sempre riguarda l'osservazione del mercato, non deve necessariamente avere un impatto sulle strategie di investimento che sono personali, dipendono dall'età, dal rischio eccetera eccetera, dal tipo di portafoglio di cui stiamo parlando, se è un portafoglio pigro, se è un portafoglio dinamico, se è un portafoglio magari legato al pack, piano di accumulo, se è un piano di accumulo pigro, un piano di accumulo invece appunto dinamico in basse all'andamento magari della stagionalità, andare a caricare la mano sui ribassi, andare un po' a essere meno, diciamo avere un pack meno forte, una quota meno consistente e durante le fasi in cui magari il mercato puzza di bruciato comunque è caro, questo ovviamente, questi ragionamenti non vanno, non entrano nelle vostre strategie che non conosco e ovviamente non sono un consulente finanziario, siamo qui a fare didattica per estendere un po' il seme della conoscenza finanziaria, ma vediamo un po' la stagionalità dei suoi mesi, negli ultimi 25 anni vedete che Wall Street e l'S&P 500 intorno a metà febbraio trova solidamente un picco quindi e poi ha una fase di debolezza poi verso appunto per un mesetto circa da metà febbraio a metà marzo per poi trovare dei suoi nuovi percorsi appunto di rialzo. È chiaro che da metà febbraio in poi si spengono un po' le trimestrali, non c'è più quasi terminata la reporting season e le trimestrali sono uno dei fattori importanti a mio avviso ma anche sulla base della statistica per la stagionalità perché tendenzialmente battono le stime e quindi tendenzialmente danno un boost agli indici, poi quando non ci sono le trimestrali manca questo effetto sorpresa dei conti e chiaramente gli indici devono viaggiare senza questo dato che statisticamente tende a dare un boost. Quindi potrebbe essere anche il fatto che fra un po' finiranno le trimestrali a spiegare questa stagionalità un po' negativa. L'altro motivo dalla seconda parte di febbraio alla prima parte di marzo. L'altro motivo può essere che all'inizio dell'anno comincia sempre con l'ottimismo a livello proprio psicologico, i mercati sono finanza comportamentale allo stato puro del resto. Poi dopo man mano che si avanza si comincia magari a rendersi conto di qualche problemino eccetera eccetera e si va un po' più guardinghi. Però poi ripeto la stagionalità vede una Wall Street andare molto bene nella maggior parte dei mesi e soffrire particolarmente il mese di settembre. Quindi anche uno sguardo alla stagionalità non fa mai male e andiamo a guardare però a questo punto la macroeconomia il leading indicator del conference board perché questo indice che elaboro spesso e chi già mi conosce già mi segue sa che mensilmente vado a proporlo ad aggiornarlo è un indice interessante perché mettendo insieme dei parametri questi che vedete qui sostanzialmente cerca di capire se questi parametri giudicati il leading cioè anticipatori in un certo qual modo del ciclo economico cosa stanno segnalando e questi parametri stanno migliorando. È vero che da tempo sono sotto la linea rossa vedete che è la linea che segnala potenziali rischi di recessione, recession signal ma da dicembre la variazione semestrale di questi indicatori è in risalita senza che ci sia la recessione perché storicamente quando questo indice poi inverte, questa variazione semestrale inverte c'è la fascia grigia c'è la fascia grigia che rappresenta la recessione, qui non siamo ancora in fascia grigia e sarà interessante vedere se riuscirà addirittura a superare nelle prossime rilevazioni il warning signal della recessione, la linea rossa senza che poi la recessione sia conclamata nei fatti. Tra l'altro proprio leggendo quello che dice il conference board we expect GDP growth to turn negative in Q2 e Q3 del 2024 ma sostanzialmente tornare a recuperare poi nella parte finale dell'anno. Quindi non parlano più di recessione, invece nella precedente rilevazione si aspettava una lieve recessione nella prima parte dell'anno, non parlano di recessione, hanno spostato però il calo e il rallentamento del PIL a Q2 e Q3 nella parte centrale diciamo di questo anno tra l'estate e settembre per poi avere un recupero nel finale. Ricordiamo che anche l'anno delle elezioni americane quindi questi discorsi vanno anche calibrati in base alla politica fiscale eventualmente della campagna elettorale eccetera eccetera che cercherà ovviamente di andare al voto, parlo dei democratici che sono in carica, certamente con dati, i migliori dati possibili dal punto di vista macro e anche prospettico quindi non va dimenticato che siamo in un anno elettorale. Comunque il conference board, il lay index ci dà segnali confortanti in termini di soft lending perché qui è spiattellato il soft lending, c'è un rallentamento e poi si riparte senza recessione. Si parla anche di Goldilocks Economy, quell'economia in cui appunto quella fase economica in cui le cose vanno bene ma non troppo bene a tal punto da spingere le banche centrali a essere tranquille. In questo caso l'inflazione scende ma nel momento in cui l'inflazione sta scendendo non sta peggiorando il mercato del lavoro negli Stati Uniti e quindi questo è un dato che piace ai mercati. Però i mercati stanno spostando il tempo, il timing dei tagli dei tassi, a questo punto si parla di maggio e vedete i futures sui tassi, qui siamo a fino a 2024 negli Stati Uniti, ne ho parlato nel video precedente proprio come avere anche voi questo strumento di rilevazione dei futures, un video tutorial proprio come capire appunto il movimento dei tassi atteso da parte del mercato. Vedete che però siamo arrivati al 4,18 in questa settimana e come dal 3,96 al 4,18 sono 25 punti bassi, come se questa settimana il mercato avesse inglobato un rialzo dei tassi da parte della Fed atteso, quindi anziché aspettarsi per fine anno tassi al 4%, adesso ci si aspetta tassi al circa 4,20% e quindi tecnicamente dovrebbe essere una notizia negativa per il mercato azionario. Il mercato azionario però sta facendo nuovi record, c'è questa divergenza tra il movimento del mercato azionario che sta salendo proprio dalla metà di gennaio e questo ripensamento lato tassi del mercato obbligazionario che sta un po' soffrendo perché l'economia è ancora molto forte e quindi si va un po' più di higher for longer da questo punto di vista, cioè tassi più alti per più tempo e quindi primo taglio dei tassi a questo punto se ne parla a maggio giugno negli Stati Uniti e abbastanza ruota poi la BCE che difficilmente si muove in anticipo anche se forse le condizioni europee richiederebbero a questo giro della storia una scelta d'anticipo visto che tanti paesi nell'area euro sono abbondantemente su livelli di inflazione sotto il 2% Italia compresa e quindi i tassi al 4,5% della BCE forse rischiano di danneggiare oltremodo la domanda aggregata e la stessa economia. In ogni caso abbiamo qui questa situazione di divergenza tra il mercato dei tassi che si fa un po' più guardingo e il mercato azionario che guidato dalle magnifiche 4,5% forse non più 7% come dicevo e soprattutto forse degli animal spirits si è portato a 23 volte gli utili come dal calcolatore che abbiamo aggiornato insieme nel backstage del file Excel in tempo reale. Quindi la situazione è abbastanza questa c'è divergenza tra obbligazionario azionario, stagionalità positiva fino alla seconda metà di febbraio stagionalità che ovviamente non è una bibbia ma comunque un elemento da tenere conto nell'osservazione del mercato e ci avviciniamo però alla parte quella di metà febbraio in poi che storicamente è diciamo più guardingo al lato azionario con un mercato bello bello tirato. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate, allo stesso tempo però i dati leading vanno a sconfessare l'arrivo della recessione. Fatemi sapere bene cosa ne pensate, un like e alla prossima!